L'alta pressione sul centro Europa si sposta in Atlantico lasciando spazio a correnti più fredde e instabili che dalla Scandinavia si riverseranno su gran parte del continente fino al Mediterraneo. Questo decreterà la fine di questa lunga fase siccitosa sul Vicentino, ritorno di pioggia e neve. Martedì la mattina timido sole si farà spazio tra dense e foschie formate si durate la notte. Nel pomeriggio arriveranno anche velature in quota. Prime avvisaglie di un cambiamento del tempo, temperature massime in diminuzione di 2-3 gradi. Mercoledì cielo coperto fin dal primo mattino, qualche possibile debole precipitazione sui monti tra pomeriggio e sera, netto peggioramento del tempo con piogge diffuse in pianura, neve sulle prealpi oltre 1.400 metri. Attesa 5-15 mm di pioggia, temperature in calo, estremi termici tra 8-14 gradi in pianura. Giovedì pressione atmosferica in continuo calo, giornata di maltempo dove avremo delle precipitazioni discontinue, pioggia a tratti sulle pianure, limite della neve in montagna sui 1.300 metri. Temperature in ulteriore lieve calo. Sulla provincia sono attesi 10-20 mm di pioggia. Tra venerdì e sabato il minimo depressionario centrato sull'altro tirreno richiamerà venti di bora su tutto il Veneto, facendo calare le temperature su valori invernali con la neve che si porterà a vuote di alta collina. Domenica ancora molta instabilità, prima a freddo per il periodo.